Mattia Correnti. Ruolo? Centrocampista. A che giocatore ti piacerebbe assomigliare e perché? Neymar, che mi piace il suo stile di gioco. Il compagno di squadra che ti fa ridere di più durante gli allenamenti? Thomas. Quali sono i tuoi presi e i tuoi difetti in campo? Forse tengo un po' troppo la palla e la gioco molto bene. Numero di maglia preferito e perché? Undici perché mi vengo a sarenare. Sport preferito oltre al calcio? Basket. Materia preferita e certo ginnastica? Matematica. Che cos'è il calcio per te? Una passione che mi fa liberare oltre alla scuola. Scuola preferita? Inter.